Il PD toscano punta tutto sul referendum costituzionale d'autunno e richiama l'ordine dopo la batosta subita nei ballottaggi alle amministrative di giugno. Ora il compito per le vacanze del partito è la diffusione a tappeto dei contenuti della riforma per garantire la vittoria del sì nelle urne. In carico affidato allo stuolo di dirigenti di partito e ministri che sfileranno alla festa regionale dell'unità in partenza il 15 luglio a Santomato, frazione di Pistoia. Una festa di periferia a cui parteciperanno tra gli altri i ministri dei beni culturali Dario Franceschini e dell'istruzione Stefania Giannini e che sarà chiusa il 7 agosto da Maria Elena Boschi, ministro per le riforme. Il segretario regionale del PD Dario Parrini intanto si dice fiducioso in base alle firme a sostegno del referendum raccolte in Toscana. Credo che supereremo largamente le 40.000 firme, saremo a circa 50.000, quindi un numero molto 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 alto, però ancora stiamo finendo di contare, non posso essere più preciso. Lo spettro delle divisioni interne al PD in ogni caso resta ed è una spada di Damocle anche in vista della scelta dei candidati sindaci per le amministrative del 2017-2018, che rinnoveranno i vertici di comuni come Carrara, Pistoia, Lucca e Siena. Abbiamo un problema di divisioni nel partito che io stesso ho denunciato in maniera forte sia tra il primo e il secondo turno sia all'indomani dei ballottaggi generalmente andati male in Toscana. Queste divisioni purtroppo sono dirompenti talvolta sia che si facciano le primarie sia che non si facciano. L'autunno del PD anche in Toscana si preannuncia già bollente.